Grazie. 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 Pepe. Grazie. 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 spirito, qualcuno lo chiama ciò che siamo dentro, il nostro profondo, che anche noi abbiamo un problema. Ecco, voglio frutturare quello. Bravo, guardami dentro l'obiettivo qua, lì. Bene, guarda bene, cosa vede? Come a posto signore, dobbiamo ancora cominciare questa relazione. Faccio un'occhietta, tutti vogliono nascondersi. E gli occhi. bravo grazie ciao grazie grazie eh, rischio davvero no sono lui e i bambini che sono tanto bambini quelli sì che sono i bambini e li posso portare? e come no? guardi bene nell'obiettivo sposi bene nell'obiettivo il marito ce l'ha? ma guarda che bella sciura guardi dentro qua qui 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 nell'obiettivo io tengo lì ma guarda che bella sciura si ma guarda che bella sciura si si grazie prego grazie mi porti nei pochini mi raccomando ecco poi ti sono beh ma il senso di una persona che i pochi fanno sono brutti sono brutti e c'è anche cosa chiede ma lo so ma anche grazie 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 grazie